Stamattina è entrata e ha trovato una sorpresa, signora, no? Sì, una piacevole sorpresa alla cassa. Una ragazza che è stata molto cortese e adesso le chiedo anche come si chiama, sinceramente. Cosa ne pensa di queste esperienze? Ottima, dovreste farla più spesso. Come va, Valentina? Benissimo. Sei contenta di queste esperienze? Contentissima, non vedevo l'ora di venire. Che cosa vuol dire per te avere la possibilità di lavorare? Eh, fare qualcosa, fare lavorare, insomma. Succede anche questo nella giornata dei negozi senza barriere promossa dal CSI per la grande sfida. Succede che persone con storie molto diverse si incontrino e scoprano un mondo finora sconosciuto. E questo grazie ad un'iniziativa che promuove un nuovo pensiero culturale intorno alle persone con disabilità, che nel pensiero di molti costituiscono purtroppo centri di costo a fronte di una incapacità produttiva. Diciamo che la perseveranza serve, è indispensabile, soprattutto quando si accettano grandi sfide culturali. Guarda, ti rispondo in una maniera. In matematica il concetto di normalità è riferito a un fatto, un fenomeno che si ripete più spesso di altri. È normale nella norma, si dice. Allora, queste esperienze diventano normali, cioè entrano nelle abitudini delle persone, se noi le ripetiamo spesso, magari piccoli gesti, quindi questi inserimenti socializzanti di alcune mattine nei negozi ripetute nel tempo. E lo scoop vero, anche per i media, dovrebbe essere il fatto che si ripetono queste esperienze, non che vengano fatte una volta, magari in maniera eclatante, e che, ripetendosi, piano piano, creano un substrato culturale. Da parte di chi accoglie, negozianti, ambulanti, piazzarotti, e sono sempre di più. Da parte di chi entra nel negozio, i clienti, che si abitua a vedere la presenza di ragazzi anche con qualche difficoltà. E da parte anche dei ragazzi stessi e dei centri che, come dire, iniziano ad aprirsi anche il territorio. 203 persone con disabilità coinvolte, di cui 84 provenienti da CFP ed istituti alberghieri, 349 mattine di lavoro, 223 esercizi commerciali coinvolti. Questi i numeri del progetto, che anno dopo anno sta rendendo l'eccezionalità normalità, innescando un processo di coinvolgimento virtuoso di commercianti e mondo della disabilità. Ma anche la Costituzione dice questo, è che è una Repubblica fondata sul lavoro, il lavoro è un diritto di tutti, secondo le proprie capacità, e quindi anche, ed è riconosciuto dalla dichiarazione di diritti universali delle persone con disabilità, sciancita e ratificata dall'ONU e da centinaia di paesi nel mondo, che è un diritto anche delle persone con disabilità di poter esprimere se stessi attraverso l'attività lavorativa, che come per tutte le persone, il fatto di esprimere attraverso un lavoro, dà a tutti una formazione di identità e anche di autostima, che è fondamentale nella formazione e nella vita delle persone.